Buongiorno anche a Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Pier. Buongiorno a tutti. Il Giro d'Italia è la corsa della Gazzetta dello Sport, ha la maglia rosa come rosa è il giornale e tutti quelli che vincono un Giro d'Italia, che sono protagonisti del Giro d'Italia, in qualche modo diventano dei familiari, dei compagni di questo lungo viaggio. Un lungo viaggio simile a una grande avventura nata nel 1909, nel mattino, durante la notte, con 127 avventurieri, sapete, è una gara che poi è diventata in qualche modo identitaria. Non c'è niente di così identitario come il Giro d'Italia. E quando uno vince un Giro d'Italia diventa un po' un campione di tutti. Per noi della Gazzetta uno di famiglia, per gli appassionati di ciclismo un amico. E quindi siamo orgogliosi di averne due qui oggi, che non voglio rivelare subito, ma che tanto li conoscete già. No, però possiamo dire che salgono su questa arca della gloria, All of Fame, che è piena di miti assoluti. Uso questa parola un'altra volta perché parliamo di miti. E fai bene a dirlo, l'All of Fame è stata voluta dal Giro d'Italia, dalla Gazzetta, ormai più di dieci anni fa. Il primo, sa va a san dire, è stato di Merckx, il secondo è stato Felice Gimondi. Oggi entrano in squadra, in occasione del Festival dello Sport, ne abbiamo addirittura due, sono il decimo e l'undicesimo, ed è una squadra... Possiamo anche proseguire questo elenco perché c'è Stefan Roche, ovviamente Francesco Moser, siamo a Trento e questo è un tema che ricorrerà nella giornata di oggi. Per forza. Ercole Baldini, il grande Bernalino, Miguel Indurain, Vittorio Adorni, Gianni Motta e oggi abbiamo la possibilità di dare il benvenuto su questa arca della gloria, nella Hall of Fame, a Franco Balmamion e a Giuseppe Saronni. Per farci compagnia in questo viaggio abbiamo bisogno di un altro amico. Il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. Possiamo partire Pier, possiamo accomodarci. Facciamo così, per introdurre le gesta di questi due grandi campioni cominciamo a conoscerli un po' da vicino. Precedenza Franco Balmamion, vincitore del Giro nel 1962 e nel 1963 abbiamo un video che ci racconta qualcosa di lui. Pensavano fosse straniero, con quel cognome Balmamion avevano scambiato per francese quel ragazzo nato a Nole Canavese l'11 gennaio del 1940 che in bici non sbagliava una mossa. Franco, il piemontese, era un predestinato, da meccanico di un'impresa tessile a vincitore di due giri d'Italia a soli 23 anni, giovane come solo Gino Bartali, attento e determinato in corsa, con uno stile misurato, sparagnino forse, ma molto moderno. Qualcuno tra i colleghi lo chiamava il farmacista, per questo suo modo di amministrare ogni goccia di energia, di sparare il colpo giusto al momento giusto, l'esatto contrario, se vogliamo, di Eddie Merckx e del suo sfrenato e immortale appetito per le vittorie. Nel 1962 conquista il primo Giro, lo fa senza vincere una tappa, nel 63 si ripete, sempre seguendo lo stesso copione. Batte Baldini, Massignan, Adorni, Taccone, Pambianco, alla meglio su scalatori tenaci e grandi irregolaristi. Riesce a recuperare minuti in classifica, persi nelle prime tappe, un piazzamento dopo l'altro, per poi trionfare. Balma Mion è stato un precursore, ha anticipato un certo tipo di ciclismo, meno arrembante ma efficace. All'epoca qualcuno scriveva che somigliava a un samurai, era semplicemente un antidivo, un campione dall'animo gentile, forse anche troppo. Chi lo conosce bene sostiene che Franco avrebbe vinto molto di più con un carattere differente. Ma il suo nome è nella storia dello sport italiano, doppio successo al Giro d'Italia, come solo Galetti, Binda, Bartali, Valetti, Coppi, Merckx e Indurain. Si ritirò a 32 anni dopo una caduta alla Coppa Bernocchi del 1969, con una Milano-Torino, un Giro dell'Appennino e un campionato di Zurigo ad arricchire il suo palmarès. Senza proclami, senza il clamore che avrebbe meritato, davvero gentiluomo. E facciamo un applauso a questo gentiluomo. Lo so cosa dovrebbe dire Saroni, che con due giri c'è anche lui, sì sì, ci sei anche tu con due giri. Non consecutivi, no no, quello è l'elenco dei consecutivi, del back to back, come si dice in inglese. Ah certo, ma parleremo anche di suoi due, per carità. Questa città in particolare ci tiene a dire che lui ne ha 22, non voglio dire perché. Franco, ti riconosci in questo video? Insomma, tu sei stato un grandissimo campione perché non si vince un Giro d'Italia se non si è campioni. Sei passata la storia però per il campione che ha vinto due giri d'Italia senza vincere nemmeno una tappa. Beh, è quello che forse mi dispiace più, non lo so, forse adesso, ma allora no sicuramente. Visto che sei ricordato più per aver vinto i giri senza aver vinto la tappa. Quindi magari se vince una tappa forse l'hai ricordato meno, comunque a me va bene così. Diciamo che io non ero veloce, poi allora era un altro ciclismo che non facevi sicuramente niente per migliorarti. E io mi andava bene così, arrivavo con i primi, curavo la classifica e cercavo di tenere le amicizie come ho sempre avuto con tutti i miei compagni, sia di squadra che anche altri perché durante le corse tappe una mano non guasta mai. Poi non so Beppe se lui non è d'accordo ma dico che creare le amicizie sovente servono. Poi bisogna anche avere il carattere di crearseli perché i compagni di squadra sicuramente ti aiutano perché sono tuoi compagni. Però anche gli altri, io ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti e continuo a averlo tuttora. Senti, anche nel video si dice che tu a un certo punto lavoravi come operaio, sei stato anche un operario della Fiat. È vero che avevi il posto fisso alla Fiat e ti sei preso l'aspettativa e ti sei licenziato solo dopo aver vinto il primo Giro d'Italia? Sì, diciamo che io ho passato, infatti io sono rimasto orfano di padre a tre anni, quindi ho avuto una vita mia mamma, aveva io e mia sorella, tre anni in più, io tre, quindi abbiamo dovuto allevarci. Poi ho fatto scuola, ho fatto l'avviamento commerciale, tre anni, poi ci sono andato a lavorare perché la vita era quella. Poi quando sono andato a correre la Fiat ci ha dato il posto di lavoro e diciamo che allora andavo alla Fiat e alla Fiat avevamo un grande direttore sportivo, Giuseppe Graglia, che era stato anche già direttore di squadre professionisti, che lui non voleva che passassi, ma non per essere contro lì, perché se riuscivano a restare con... quelli che passavano erano le più forti, se riuscivano a restare con loro vincevano le più cose. E allora cominciava a raccontartela, sì, voi avete il posto di lavoro, magari fate un contratto, lo perdete un anno, poi non trovate più a rinnovarvi, avete perso il posto di lavoro. Diciamo che per me allora il posto di lavoro era molto importante, poi l'ho divenuto un certo periodo meno, adesso forse l'ho di nuovo più importante di allora, quindi io che ero un ragazzino, vent'anni, diciannove, vent'anni, che avevo il vicio di ascoltare chi ne sapeva più di me, di imparare, magari altri, uno parlava e non sentivano neanche. Quindi alla fine d'avoretti, allora alla Fiat, dato che avevo un mio zio che lavorava lì, quindi io andavo anche a aiutarlo, lui aveva un'impresa per conto suo. Allora quando ho firmato per la Bianchi, il primo anno, ho chiesto la Fiat un anno di aspettativa, e allora me l'ha andato, vabbè, poi il primo anno sono già andato bene, però vittorie non avute, però l'anno dopo ho rinnovato per la Bianchi di nuovo. Poi la Bianchi ha fatto l'abbinamento con la Ignis, che è venuto fuori in Moschettieri, che alla fine lì c'era Baldini, Pambianco, Baldini che aveva vinto il giro del 58, Pambianco che aveva vinto il giro d'Italia del 61, il primo anno mio, Nencino che aveva vinto il giro del 60 e il giro d'Italia del 57, io a un ragazzino di 92 anni vado lì, cosa faccio? Io sapevo benissimo quali erano le mie caratteristiche, quindi no, io lì non vado, e allora ho firmato per la Carpa. Franco, ti interrompo per non anticipare tanti temi della scaletta, perché ne parleremo tra poco. Volevo chiedere a Mauro Vegni il significato per il giro d'Italia, per la storia della Corsa Rosa di questo giorno, dell'ingresso di questi due nomi nella Hall of Fame. L'hai detto semplicemente tu, il significato è importantissimo, perché rappresentano gli uomini che hanno fatto la storia del giro d'Italia, e annoverare due personaggi così importanti nelle gesta del ciclismo è un elemento importante anche per il giro d'Italia. Chiaramente oggi daremo questo Hall of Fame a questi due personaggi. Avete detto già voi quanti altri personaggi importanti hanno ricevuto questo titolo. Io credo che dalla storia si deve sempre ripartire per andare verso nuove frontiere, nuovi orizzonti nuovi. Ecco, questo credo che sia importante, ma lo fai sempre grazie alla storia. Vai, Iber. Ma fammi dire una cosa, perché a proposito del posto fisso lasciato, mi viene in mente una cosa che mi raccontava Gimondi anche, che è della tua epoca, anzi è un legame che c'è tra te e Saroni. Lui era addirittura il vice postino di Sedrina, perché la mamma è la postina di Sedrina e lui era il vice postino con un posto di lavoro a tempo indeterminato come vice postino. E anche lui lasciò il posto da vice postino solo dopo aver vinto il Tour de France del 65. Ma erano altri tempi, l'ha detto chiaramente lui, insomma. Saltando i pali francesi, Giuseppe, anche tu hai lavorato all'Olivetti, è vero? Ad un certo punto. Sì, probabilmente. Io sono di una generazione dopo la tua, ma prima di passare professionista anch'io ero dipendente tecnico all'Olivetti. Mi allenavo anch'io due mattine alla settimana, perché il titolare appassionato ti dava due mattine alla settimana. Poi quando ho fatto la vita da professionista ho avuto un cambio, un cambio di condizione atletica, ma allora ai nostri tempi era così. Due veri piemontesi, uno lavorava per la Fiat, l'altro per l'Olivetti. Meno male che avete fatto i corridori poi. Perché io poi ho ancora rinnovato l'aspettativa per il secondo anno anche, anche se avevo già firmato, no? Io quindi il 62 ero ancora dipendente Fiat. Finché ogni tanto andavo a trovarli, no? Perché conoscevo tutti, finché a un certo punto mi hanno detto guarda che qui è meglio che ti licenziamo. Mi hanno licenziato e ho finito la mia carriera alla Fiat. Volevo chiedere a Beppe Saronni, prima di guardare anche un video, ovviamente, sui suoi giri d'Italia, perché guardando Maurizio Fondries, che saluto e ringrazio della sua presenza, campione del mondo del 1988. Beppe, avresti mai immaginato di essere, nel giorno della consegna di questo meraviglioso trofeo, a qualche anno di distanza dai tuoi giri d'Italia, a Trento, in Trentino, che è la città di Francesco Moser. Ma guarda, ci pensavo prima, tra me e Moser c'è sempre un filo che ci lega. Anche in questo caso siamo a Trento a ricevere uno dei trofei, dei premi più ambiti dei corridori italiani, ma non solo, che ricorda le nostre vittorie al Giro d'Italia. E guarda caso, neanche a farlo apposta, siamo a Trento. Quindi c'è sempre qualcosa che ci lega. Ringrazio Maurizio di essere qui, ma tranquilli, passerà a salutarvi Francesco, prossimamente, non avere dubbi. Un filo che ogni tanto si spezza, però, tra dichiarazioni e altre cose, da sempre. Poi magari si riannoda, si riparte, ma col filo lì ogni tanto si rompe anche. No, ma anche perché, scusa, perché poi mi dimentico è l'età. No, l'altra cosa che mi fa piacere essere qui è essere qui con Franco, perché io ho letto e ho seguito tanto la storia di tutti i giri d'Italia, ho letto anche la tua, e devo dirvi una cosa, che due giri d'Italia non si vincono casualmente. Non c'è una fortuna per due giri d'Italia. Forse la fortuna e circostanze favorevoli ci sono quando tu vinci un giro d'Italia, ma per due giri d'Italia no, non c'è fortuna. Abbiamo provato a condensare la carriera di Beppe Saronni in un minuto e mezzo, impresa difficilissima. La vediamo insieme. Beppe Saronni nasce il 22 settembre 1957 a Novara, ma cresce a Buscate, pochi chilometri da Milano. Dai 13 ai 17 anni vince più di 150 corse tra pista, strada e cross. A soli 19 anni passa professionista, diventando uno dei campioni più vincenti e amati della storia. I numeri parlano da soli. Dal 1977 al 90 ben 194 vittorie, tra cui due giri d'Italia, con 24 tappe e 49 giorni in maglia rosa. Il suo anno d'oro fu il 1982, con 27 successi, fra cui Milano-Torino, Tirreno-Adriatico, Trentino, tre tappe della Corsa Rosa, Giro di Svizzera e Lombardia, con l'indimenticabile fucilata al Mondiale di Goodwood. In maglia ridata, l'anno dopo va a vincere la Milano-Sanremo, ultima a trionfare da campione del mondo, eguagliando Binda, Gimondi e per due volte Merckx. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Francesco Moser. La loro rivalità rappresenta una delle pagine più vincenti dello sport italiano, e le strade della corsa più importante sono spesso state teatro dei duelli tra Beppe e lo sceriffo. Nel 1979 Saronni si aggiudica il primo Giro d'Italia con tre tappe. Aveva 21 anni e 8 mesi. Il secondo arriva nel 1983, davanti a Visentini. Anche quell'anno vinse due tappe, di cui una cronometro più una semitappa. Il romanzo rosa termina con il secondo posto del 1986, e il terzo del 1981. Il ritiro a 32 anni, preludio a una carriera da dirigente, con tanti campioni scoperti, sostenuti e lanciati. Un nome per tutti, Tadej Pogacar, il fenomeno del ciclismo moderno. Giuseppe, tu hai vinto il primo Giro d'Italia a 21 anni e 8 mesi. Nella storia del ciclismo soltanto Coppi e Marchisio avevano vinto più giovani, poco più giovani. Eri proprio quello che noi chiamavamo, giornalisticamente, il bimbo d'oro. Andavi forte dappertutto. Mi viene in mente un aneddoto che ci raccontavi tu, che è un po' un legame che hai con Franco. Un corridore che ha legato le vostre due carriere è Felice Gimondi. La tua prima corsa, in pista mi pare, ti trovi contro Gimondi. Raccontaci com'è andata. Questa la ricordavo con Felice sempre. Perché, attenzione, io ho corso con Felice i primi due anni, erano i suoi ultimi due anni di carriera. Ma, come dicevi tu, la mia prima corsa da professionista è stato il campionato indoor al vecchio palazzetto, ahimè, cascato, di Milano. Io venivo dalla pista, ero veloce, era un corridore veloce, ed ero stato preso alla chic come velocista. Mi trovo, per farla breve, in questa gara in eliminazione, quindi ogni corridore che veniva eliminato ogni giro, rimanevano gli ultimi due che si giocavano le vittorie. Io mi sono trovato a poco più di 19 anni a giocarmi la vittoria, niente poco di meno, con Felice Gimondi. Campione del mondo, una cosa incredibile. Però non mi sono lasciato prendere dall'emozione. Ho fatto la mia volata. Un po' troppo, forse. Perché l'hai battuto di tanto. Sì, Felice l'ho battuto di una decina. Cioè, gli ho dato un bel stacco. Però io non ho più pensato veramente al mito Gimondi. Scendo nel parterre, scendo dalla pista, trovo i miei compagni della chic, i gualazzini, i paulini, questi ragazzi qui, che avevano un corridore di grandissima esperienza, e cerco i loro sguardi, la gioia del ragazzo giovane che vince. Eh no, non c'era uno sguardo gioioso. Mi hanno preso e mi hanno detto no, ma così no. No, Beppe, dobbiamo andare a chiedere scusa a Felice. Ma come? Un imbarazzo mio. Siamo andati da Felice, sono andato da Felice a chiedere scusa. Lui era girato di spalle, si stava asciugando. Felice aveva sempre questa tossettina continua, no, negli ultimi anni. E gli dicono, ah, Felice, c'è il giovane che voleva dirti, voleva chiederti. Lui si gira e mi fa, eh, eh, giovane, un po' più di rispetto. Questa è stata la mia prima esperienza con Felice e Gimondi. Dopodiché si è creato un'amicizia, perché Felice era un corridore fermo e duro, ma dopo quando ha smesso si è creato un'amicizia, ogni tanto ricordavamo questi fatti, ed è stato un amico importante perché mi ha dato tanti suggerimenti. Però questa è stata la mia prima esperienza. Franco, tu invece hai corso anche con Gimondi era stato Arani e hai fatto secondo anche nel primo giro di Gimondi nel 67. Secondo lì e terzo al tour quell'anno quando hai vinto anche il campionato italiano al giro di Toscana, perché poi qualche corsa l'ha vinta, Franco, perché ha vinto una Milano-Torino, ha vinto il giro dell'Appennino, è stato campione italiano, insomma, vincevi anche le corse. Qualcuno, sì. E quel giro, nel 67 forse l'anno che paradossalmente è stato anche più forte, e quel giro di Gimondi era un terzo giro che avresti potuto vincere, così? Diciamo che nel 67 io ero al primo anno alla Molteni con Gianni, quindi Gianni... Gianni Motta. Gianni Motta, sì. Nel 66 era andato tremendamente forte, il giro d'Italia l'aveva vinto, quindi nel 67 era sicuramente giusto che partisse lui per curare lì. Difatti io andavo, però la tappa arrivare a Potenza a un certo punto, Gianni alla volta non era come adesso che ci neutralizzano, a parte che la Potenza si era anche un po' in salita, quindi comunque ha forato un chilometro e mezzo, due dall'arrivo. Io ero, diciamo, forse più vicino, forse anche più sveglio, ma era giusto così, dovevo essere io a dare la bicicletta a Gianni, anche se forse c'erano altri compagni della Molteni, però glielo ho dato ben volentieri perché era giusto così. Però lì ho perso un minuto e 15 secondi, penso. Poi dopo Gianni è stato lì fino all'acronometro a Verona, poi all'acronometro a Verona è andato piano, allora Giorgio Albani, grande direttore sportivo, diciamo, che per me è stato sicuramente il migliore di tutti, che ho avuto io, poi non... E allora, ma Franco vedi, allora io ho iniziato, di fatto di all'indomani, poi comunque siamo arrivati qui a Trento proprio, che era forse la quarta-ultima tappa, poi si avrebbe dovuto fare lo Stelvio, non si è fatto, quell'anno si poteva comunque che qui vinse Vittorio Doni, che arriviamo in cinque, primo Doni, secondo un ragazzo qui di Trento, Claudio Michelotto, terzo io, quarto Perez Francia e quinto Felice. E anche ti l'avevamo staccato un po', comunque la classifica era primo, anche ti, secondo Gimondi, penso a 24 secondi, io terzo a 37 o 40 secondi, comunque eravamo lì. si ricorda tutto, i dettagli, i secondi, insomma è un giro che potete vincere anche quello. No, perché diciamo che quel giro l'ultimo giorno aveva due tappe, una arrivava in cima al Ghizalo e l'altra arrivava poi al Vigorelli, perché io ho vinto tutti e due con la finale al Vigorelli, quindi io aspettavo quella tappa, solo che la penultima, lui prima della prica andò via e arrivando a Teolo, come si chiama, Valtellina? Teolo. Teolo, esatto, era un fuga in tre, lui andò via da solo e arrivò con tre minuti, però dietro anche Till non tirò, io sicuramente non toccava a me tirare, perché era venuto fuori che doveva vincere un italiano, ma poi era giusto così, non toccava a me, la maglia l'aveva anche Till. Poi l'ultima tappa sul Ghizalo, andammo via in quattro e la tappa la vince Gonzalo, ed io però arrivo al secondo, terzo Adorni, quarto Panizza e scavalcai anche Till in classifica, infatti primo Gimondi, secondo io, terzo anche Till, quell'anno finì così, però diciamo che non puoi dire che Felice non dovesse vincere l'Italia. Franco, una domanda, perché con l'aiuto di Luca Geranella, il capo delle pagine di ciclismo della Gazzetta dello Sport, abbiamo scoperto una miriade di aneddoti su di te, ce n'è uno che mi ha fatto impazzire. È vero che anche Till venne a casa tua a farsi la doccia dopo un circuito? Sì, diciamo che allora si correva al circuito Cirieno, io sono nato a Nole, adesso abito a Cirieno, però era a due o tre chilometri e altri che erano i miei compagni, io sono mai stato in squadra con anche Till, anche se io, l'ho già detto prima Beppe, io nella mia carriera i due corridori più forti sono stati Merz e anche Till. Merz non si discute come Italia, non c'è paragonia, però io ho mirato più anche Till per la signorilità che ha avuto, quindi comunque ritornando lì quello che mi hai chiesto, perché sono andato fuori, niente, si correva a Cirieno, in genere quei circuiti correva oggi lì, un altro giorno magari a Fontanellato, dipende, allora i corridori si aggiustavano e io e i miei compagni venivano a cambiarsi a casa di mia mamma, era a casa mia perché abitavo prima di sposare, però poi dovevo sposare lì è rimasto mia mamma e mia sorella, io sono andato in altri lidi, comunque è buon, e anche Till era con altri e quindi venivano a fare la doccia a cambiarsi a casa mia e noi i corridori siamo tutti un po' così, no, lì, infatti, poi fai anche un po' di casino, anche Till ricordo che io c'era mia mamma seduto in fondo all'angolo, lui come è entrato è il primo andato a salutare mia mamma, io quelle sono cose che rimangono. Una roba da nulla, anche Till a fare la doccia. Ma cosa per Mauro, Piero, volevo chiedere a Mauro, io credo che la cosa più bella del ciclismo e del Giro d'Italia che lo rende moderno sia la passione, sia l'amore dei tifosi, lo accennavamo prima a proposito di Beppe con questa rivalità storica, ma la modernità sta anche nel passare, nell'attraversare tutte le città, tutti i paesi, tra due ali di folla. Nell'83, nel 79, ma nell'83, quando questa folla era animata anche da una divisione che accendeva gli animi, rendeva questa passione veramente rovente, com'era? raccontalo anche a chi non c'era in quei giorni, però ha sempre sentito parlare di questo. Beh, tu mi fai una domanda che per forza delle cose mi ricorda tante emozioni, tante cose belle, anche meno belle, perché quando c'è il tifo, come c'era allora, e i tifosi erano schierati, soprattutto per noi due, c'erano anche delle esagerazioni. non voglio dirvi le spinte sulle salite, non voglio dirvi le parole, non voglio dirvi tante altre cose, voglio ricordarvi invece le cose belle. Le cose belle è che questa massa di gente, questi tifosi che venivano sulle strade, perché contrariamente, oggi ce ne sono ancora tanti, ma allora ce ne erano tanti di più, allora andare a vedere il ciclismo dovevi prendere la famiglia, gli amici e andare a vedere il ciclismo, andare, stare via qualche giorno, andare sulle salite per vederti passare qualche secondo. Quelli erano tifosi, erano appassionati incredibili e ti davano veramente tanta forza, tanto morale, perché gli incitamenti, soprattutto sulle salite, quando c'erano momenti di difficoltà, questi incitamenti con la maglia rosa lì che stavi per vincere, sono veramente importanti, ti danno veramente una carica incredibile e fanno discutere la gente, perché quello che noi abbiamo creato in quegli anni era la discussione, la discussione fra gli appassionati ai bar e per le strade, non si parlava solo di Milan, Inter e Juventus, si discuteva di ciclismo e credo che sia stata questa la cosa più bella che noi abbiamo fatto. Franco ha raccontato di Anquetil che la prima cosa che ha fatto quando è andato a cambiarsi a casa sua è andato a salutare sua mamma, non ha raccontato la seconda, la seconda che faceva Anquetil andava a vedere in frigorifero se c'era una bottiglia di champagne. No, no, lì non, l'ho andato perché non l'ha trovata. Beppe, Franco dice che Anquetil è il campione di più grande classe, di stile, di cose che ha conosciuto nella sua carriera. Nella tua carriera chi è invece il campione con più classi con cui hai corso? Ma guarda, questo che diceva Franco è una cosa bella, è importante, a cui ogni tanto ci penso anch'io perché noi che abbiamo corso e che abbiamo vinto, abbiamo avuto tanto, tante soddisfazioni, tante gioie, tanti ammiratori però poi almeno così succede a me e tu ti ricordi maggiormente i corridori che sono stati più bravi, più generosi, più signori come diceva lui e non tanto per le vittorie che hanno fatto ma delle persone, degli amici che si sono comportati bene con te. Per un gesto nobile. Quindi tu ti ricordi i personaggi e i protagonisti non tanto perché hanno vinto chissà che cosa ma perché sono stati onesti, sono stati corretti ovviamente nell'antagonismo tutti corravamo per squadre diverse, tutti lottavamo per vincere, magari ci facevamo anche qualche sgambetto ma sempre nei limiti della correttezza. Ecco, questi sono i ragazzi che tu ti ricordi meglio, come posso dirti, con gioia, con soddisfazione e non erano sempre i corridori più forti, questo no. Però ti posso dire che se devo fare una classifica di corridori importanti il più forte ovviamente che io ho visto e ha corso con me è stato Bernard Rinault inutile a dirlo ma il corridore più intelligente il corridore più intelligente che vedeva la corsa maggiormente è stato un certo Roger Devlamic il corridore più forte più potente fisicamente è stato Martens è stato Martens questi sono i corridori più importanti che ho visto C'è Mauro che vuole aggiungere qualcosa Mauro vai vai Ma il corridore italiano perché questi sono tutti strani ma il corridore italiano più furbo e attenzione furbo intendo dire nel buon senso della parola intelligente e furbo è stato Franco Bitossi però in realtà avevo cominciato con la domanda chiedendo a Mauro dal tuo punto privilegiato di osservazione un giudizio su quegli anni allora io sicuramente quegli anni li ho vissuti abbastanza estemporani oramai sono quasi 30 anni che sono al giro d'Italia devo dire che oggi finalmente ritorna la gente sulle strade c'è nuovamente la passione per vedere questi attori importanti sulle strade e credo che questa sia la cosa più importante è chiaro che l'epoca che dice Giuseppe era un'epoca diversa anche il modo di fruire lo sport che era diverso per cui sicuramente non possiamo pensare di avere quella cornice di pubblico che c'era fino a 40 anni fa però oggi fa piacere rivedere tanta gente di nuovo sulle strade quando parlo di gente non parlo il solito gruppo degli appassionati di ciclismo vedo tante famiglie con tanti bambini e quindi questo è il lato positivo di questo sport Beppe c'è un momento chiave nella tua carriera e forse la cronometro di San Marino del 79 no? Lato chiave è stata la vittoria del 77 la sua prima vittoria da professionista con me che organizzavo quella corsa il pantalica no ma dico per il giro perché Giuseppe è velocissimo io me lo ricordo addirittura ad allievo vincere il trofeo Bongiasca Varese vincere tutto in pista fortissimo molto veloce nelle corse tappe non era così scontato che potesse andare anche così forte in salita o nelle cronometro e forse quel giorno lì il giorno di San Marino è stato un giorno chiave per te no? Sì sicuramente sì anche perché ha dato il via e lì ho capito che avrei potuto anche vincere il giro d'Italia avrei potuto competere con i grandi protagonisti nelle grandi corsi a tappe come dici tu non era certo prevedibile scontato però io sapevo di poter far bene però è un conto saperlo e sognarlo è un conto e farlo in quella giornata era uno cronometro abbastanza difficile metà cronometro era in salita però era una salita a parte gli ultimi chilometri duri con pendenza dura pedalabile dove ci voleva potenza inutile dirlo che il favorito era Francesco perché in quegli anni patron Toriani giustamente giustamente faceva qualcosa in più per Francesco che era il protagonista di quegli anni andava bene anche a te comunque andava bene anche a te quel tipo di percorso sì certo andava bene anche a me ma io non lo dicevo no io dicevo sempre che i percorsi erano per Francesco fatti apposta no un po' sì un po' sì perché tutti si dimenticano che in quei giri contrariamente ad oggi i chilometri di cronometro erano da 140 a 160 non 30 a 40 come oggi perché oggi va bene fanno tanta diversità i cronome e quindi io mi dovevo confrontare non solo sulle salite ma io ho vinto due giri d'Italia in realtà a cronometro perché allora c'erano tanti chilometri a cronometro ed era il terreno di Francesco vinto anche a Cesano Maderno l'ultimo cronometro in Magliarola però diciamo che hai ragione nella cronometro di San Marino cronometro ho capito che avevo fatto un buon salto di quell'età e potevo essere protagonista nelle grandi corse a tappe ecco prima ridendo ricordavamo con all'occhio che hai fatto anche un Tour de France o qualche tappe di un Tour de France hai un rammarico adesso di averlo corso così poco o di essere andato solo in quell'anno sì il nostro era un ciclismo diverso noi avevamo tante squadre in Italia era più gran bel ciclismo che c'era nel mondo e in Europa soprattutto perché erano le squadre migliori erano qui in Italia tu pensa che i ragazzi che cominciavano ad andare in bicicletta in giro per il mondo e in Europa soprattutto le prime cose che volevano imparare a parte il fatto di andare forte era quello di imparare l'italiano perché la loro ambizione il loro sogno era quello di venire a correre in una squadra italiana le squadre italiane erano più preparate tecnicamente le più organizzate quindi questo credo che sia importante ma io ho corso il tour perché la squadra me l'ha chiesto non ero in grandi condizioni e quindi proprio perché il ciclismo e gli sponsor erano soprattutto italiani non c'era questa volontà estrema di andare al tour le squadre erano fatte di 13-14 corridori quindi dovevi scegliere se facevi la volta in preparazione del giro non potevi programmare il tour ma gli sponsor non interessava soprattutto alla del tongo o alle altre squadre interessava vincere in Italia perché il ciclismo e le classiche le corse più importanti erano in Italia sono andato una volta al tour però lasciami dire devo rispondere devo rispondere all'amico Stefano che mi caccia sempre di quelle di quelle battutacce no al tour abbiamo preso la maglia rosa con Piazeschi secondi alla cronometra squadra scusa la maglia gialla ho tenuto duro 13 giorni ho tenuto duro 13 giorni e il rammarico più grosso come dici te è quello di non essere andato al tour nei momenti importanti non per vincere il tour perché contro i francesi non c'era niente da fare ma per vincere tappe per la maglia verde questo sì questo è un rammarico volevo provare a lanciare un ponte un collegamento tra il vostro ciclismo e quello di oggi attraverso due nomi quello di Filippo Ganna e quello di Tadej Pogacar Franco tu hai conosciuto Filippo da ragazzino era molto giovane vuoi raccontarlo lui poi Piemonte del sud vicino a Verbagna però oltretutto era diretto da una squadra che c'era il figlio io ho avuto come compagno di squadra Germano Barale che era il papà di Florido che è stato direttore sportivo anche di di Filippo Ganna quindi grande a corridore diciamo che io non lo vedo dura vincere un giro d'Italia un giro di Francia sicuro a parte che con le preparazioni adesso l'ha vinto anche Wiggins un giro d'Italia quindi per me per in Ganna è uno sicuramente che può vincere la Sanremo perché l'anno scorso penso che se fosse stato lui sulla ruota di Van Der Poel forse non l'avrebbe staccato perché poi in discesa bisognava vedere però penso che sia più un corridore effettivamente che può puntare alle grandi classi è arrivato comunque secondo è arrivato comunque secondo sì sì no no sicuramente penso che diciamo un grande corridore al motore al motore sicuramente e Beppe è la prima volta che hai visto Taddei cosa hai pensato Beppe è lo scopritore come Taddei Pogaccia scopri anche un italiano così però ringrazio troppo buoni ma Taddei mi è stato suggerito noi quando avevo la squadra avevamo da tempo da anni comunicazione interesse col ciclismo sloveno avevamo degli amici che ci suggerivano ci dicevano quando c'erano degli atleti che avevano la possibilità e le qualità per passare professionisti ne abbiamo avuti parecchi l'ultimo l'ultimo è stato il commissario tecnico Outman che oggi è anche direttore sportivo dell'OE a suggerirci questo ragazzo io dico la verità fai fatica a credere perché sai i procuratori e gli amici ti raccontano sempre che sono tutti campioni in effetti bravi corridori però sai un po' di titubanza c'era sono andato a vedere questo ragazzo al giro del Friuli il giro del Friuli lui era in una squadra una squadra minore diciamo slovena e corre il giro del Friuli con delle squadre professional quindi già con dei buoni atleti già professionisti o semiprofessionisti questo ragazzo che prima della partenza rideva e scherzava lo vediamo questo ragazzo sereno tranquillo un viso eccezionale una pedalata facile semplice quasi disarmante bene era già così allora sull'ultima salita si è stancato dalla compagnia degli altri ha staccato tutti non ha guardato più in faccia a nessuno ed è arrivato da solo ma è arrivato con una freschezza e una tranquillità incredibile e allora lì ho capito e ho pensato e ho detto sì veramente questo ragazzo ha qualcosa in più certo allora nessuno poteva pensare che avrebbe vinto subito due giri di Francia il corridore che oggi però qualcosa che aveva in più questo certamente sì credo sia sbagliato per chiudere il discorso dire eleggere un più grande di tutti i tempi anche se il ciclismo oggettivamente ha in Merckx un riferimento unico però c'è qualcosa di Edi Merckx che rivedi in today? ma guarda io sono uno che veramente dice che è difficile fare confronti fa epoche diverse quello che posso dire è che questo ragazzo qui da sempre da giovane da subito sapeva quel che voleva un grande coraggio grande forza vuole sempre vincere vuole sempre far bene ed è uno dei punti di forza suoi e soprattutto è un corridore che programma la sua attività ed è in grandi condizioni quasi sempre e tutto l'anno quindi ecco questi sono i punti di forza e credo che un collegamento con il grande Edi un po' ci sta senti Beppe chiedo per un amico disinteressato aperta parentesi Mauro Vegni chiusa parentesi Pogacar può correre giro e tour è il corridore che può vincere giro e tour nello stesso anno che possa correre ma lo fa lui a me ah non lo fai dire al direttore cioè fai sbilanciare Mette ma io credo che Pogacar sia un corridore che può programmare giro e tour più giro e tour che Vuelta perché la Vuelta viene in un momento della stagione diversa è meno adatta a lui però giro e tour sì certo è un rischio perché il giro è una corsa importante bella importante dura e il tour uguale ecco quindi lo può fare sicuramente perché è un corridore forte che è sempre in grandi condizioni che ha la volontà generosità coraggio lo può fare deve però programmare bene la sua stagione bene Franco non chiedi a Mauro non glielo chiedi so come la penso lo sai come la penso credo sia un sì è un sì è un sì l'interessato devo dire che c'è stato per me un grandissimo corridore di questi ultimi ventennio che aveva avuto la possibilità secondo me di fare l'accoppiata giro tour contador contador esatto ma ha sbagliato i tempi dell'approccio di quando ha voluto tentare questa doppietta nel credo intorno al 2010 era possibile ancora farlo lo ha voluto fare molto più avanti e quello che devo dire anche di Pogaciar deve stare attento perché poi quello che tutti gli anni che tu pedali in qualche modo li ritrovi per avere una freschezza fisica che ti consente di fare giri e tour oramai giri e tour in qualche modo sono diventati più livellati verso il basso nel senso che tutte quelle difficoltà altimetriche si sono in qualche modo livellate e ci potrebbe essere la possibilità veramente di fare giri e tour insieme grazie franco franco balma mion e non lo dico a caso staccato perché il nome originario il cognome originario sarebbe balma mion poi noi giornalisti andiamo un po' velocemente l'abbiamo unito il nome ed è diventato balma mion o noi ciclisti non abbiamo piacere che qualcuno resti staccato che si è staccato balma mion l'abbiamo attaccato è diventato balma mion talmente strana questa cosa che franco ha due figli una figlia con il nome con il cognome attaccato e un figlio con il cognome staccato è vero? si diciamo ma qui è successo così che diciamo quando è nata la figlia combinazione era a casa era nata poi una clinica a Torino ero andato io a farla iscrivere all'anagrafe e è venuto fuori balma mion attaccato ma il bello è che ce ne siamo accorti finché non si è sposata quando si è sposata siamo accorti che era balma mion allora poi bianchezzo però si lascia così invece il figlio purtroppo è nato durante l'unico mio giro d'Italia che poi è qui presente anche l'unico giro d'Italia che non ho finito perché sono caduto a Melfi che mi sono rotta la clavica l'ho dovuto ritirarmi difatti siamo caduti io e Marcello Bergamo io questo e lui questa poi siamo andati anche al processo Melfi lì te la racconto dopo perché è una storia troppo alla fine niente alla fine rientro prendo l'aero a Napoli rientro a Torino e la moglie aspettava però quella notte è nato è nato il figlio allora ha dovuto abitare a Malanzo è stato all'ospedale di Malanzo è nato lì è andato tutto benissimo però io poi ero andato a farmi operare per velocizzare la guarigione che poi ho voluto andare al Tour de France però non è che andavo tanto poi è quell'anno che Ocani andava come io ho mai visto come una moto che poi l'ha perso perché è caduto sul Col de Mante aveva staccato tre giorni Lady che lì era nel 71 quindi aveva 26 anni niente tre giorni di fila e arrivare allo Schermel l'aveva dato 7-8 minuti quindi comunque per non sbagliare hai fatto Mauro Balmamione è staccato e la figlia Balmamione è staccato quindi senti tu sei in questo momento il più anziano vincitore di giurità purtroppo sì però penso che sia anche un merito no senza dubbio ho letto quello che scrivevano i grandi giornalisti da allora ti definivano come un corridore riflessivo coscienzioso e altruista un po' troppo per un corridore forse per quello che hai vinto meno di quanto potevi vincere ti mancava un po' di... ma io sicuramente ho sempre comportato in un certo modo nella vita quello che mi è stato insegnato già da ragazzo e ho continuato a farlo e l'ho fatto e sono ben contento di tutto quello che ho fatto nella mia vita bravissimo bravissimo e poi c'è sempre per restare vicino ai tempi di oggi c'è un bellissimo collegamento perché il Giro d'Italia che partirà dal Piemonte ha questo omaggio al grande Torino dalla partenza Franco Balmamione grandissimo tifoso Granata vero? per anni anche allo stadio? Sì adesso non no no in passato no no sono andato ancora una volta anche quest'anno però è stata una partita poco bella però alla fine ha vinto Torino-Genova comunque diciamo che io ho sempre tifato Torino e continuerò sempre a tifarlo quindi anche perché forse il Giro d'Italia l'ho vinto perché avevo la maglia bianconera proprio di gattini così allora era l'unica corsa che si poteva cambiare maglia mettevo quella rosa che si avvicinava di più alla Granata senti tu appunto riflessivo coscienza però un giorno in una sola tappa hai provato a fare un colpo di testo un azzardo hai provato a fare coppi nella Cuneo Pinerola del 64 ma no lì sì ho provato a fare coppi no lì diciamo che ho avuto due giorni che ho avuto due disavventure avevo perso un minuto e quindici una tappa arrivare a San Pellegrino e un altro minuto e mezzo a Pedavena che c'era quella discesa del Croce Down che io il Croce Down ero passato prima in salita che non passavo mai prima in salita però sapevo che c'era la discesa brutta allora era giusto che la iniziassi davanti e poi in certo punto mi aveva già superato taccone di sieda diciamo in realtà quindi ero secondo a un certo punto ho forato io per velocizzare mi fermo cambio la ruota tolgo la ruota aspetto all'ammiraglia l'ammiraglia se l'ha fermato perché aveva forato un mio compagno Rolf Maurer così non è arrivata e infatti hanno forato tutti perché Italo Giglioli per esempio ha forato tutte e due però lui ha continuato con tutte e due le ruote bucate finché e allora arrivando a quella tappa ero settimo in classifica vero non ero però avevo tre minuti qualcosa quindi ho provato ad attaccare sì sulla Maddalena sulla Maddalena la prima salita come coppi esatto forse sono lasciato un po' però il discorso è che ero settimo perché io quell'anno sono sicuro che anche Tir come ho detto il rispetto che avevo prima non potevo vincere il giro Italia perché il massimo andava bene poteva arrivare secondo però se fosse stato secondo in classifica avrei corso sicuramente in modo diverso essendo settimo ottavo ho detto proviamo se vava di fatti prima attacca io poi attacca Zilioli e poi sul Sestri andai in crisi di fatti fui l'unico poi che mi staccai da quel gruppo di quei sei o sette di fatti penso arrivare ottavo a quel giro lì non so neanche però ci hai provato però ci ho provato sì sì però ho provato però con anche Tir non era facile Giuseppe tu invece hai vinto 24 tappe del giro vestito a maglia rosa 49 volte hai vinto anche tappe in volata hai vinto in tutti i modi ma qual è il giorno in cui sei andato più forte in assoluto al giro d'Italia qual è il giorno in cui proprio ti sei sentito in uno stato di grazia ma beh è difficile dire anche perché tutte le vittorie al giro d'Italia per un corridore italiano sono tutte belle sono tutte grandi parlavi della Cuneo Pinerolo beh è chiaro che la Cuneo Pinerolo che ho vinto davanti a Bernard Rinault quella è stata una grande soddisfazione ma non solo per quello è perché in quell'ultima settimana avevo trovato una condizione eccezionale negli ultimi giorni ed era poi quella condizione che ha dato il via a quel periodo eccezionale con la vittoria del giro di Svizzera la vittoria del mondiale del Lombardia d'Arseremo del secondo giro d'Italia quindi è uno dei momenti più belli non solo perché quella tappa è una tappa mitica che ovviamente è lontano da me confrontarmi e ricordare Fausto Coppi che è un qualcosa di diverso però proprio perché la tappa era importante era mitica ma soprattutto perché in quegli ultimi giorni avevo trovato veramente questa condizione che mi ha dato come dicevo prima in là a tutte quelle vittorie poi il giro d'Italia guarda quando si vince l'etapa del giro per un corridore italiano credo che sia il massimo dei sogni Allora Pier visto che mancano cinque minuti e visto che questo momento va goduto io procederei alla premiazione perché siamo nel momento in cui Franco Balmamion e Beppe Saronni possono ricevere finalmente questo magnifico trofeo a premiare Franco sarà Pier Bergonzi quindi cominciamo con Franco prego Pier ti tocca sollevare ragazzi pesa tantissimo questo trofeo quindi è un'operazione che va fatta con cautela prego e Mauro Vegni premia Beppe Saronni prego pesa pesa abbiamo il tempo anche per un'ultima battuta visto che ci siamo provo ad aiutare intanto Franco ecco qua allora Franco questo è il momento che un po' anche aspettavi perché vedere premiati tutti i vincitori del Giro d'Italia i nomi scritti c'è anche il tuo scritto su quelle rampe che raffigurano la spirale è un'emozione vera no? sì diciamo sicuramente è un enorme piacere quindi sono veramente entusiasta contento di averlo ricevuto quindi ringrazio tutti per questo pensiero Beppe ti abbiamo visto è come se per un attimo fossimo tornati indietro negli anni sì sì devo dire che è da tempo che avrei voluto tenere nelle mani questo trofeo finalmente grazie a voi ci sono riuscito me lo porto a casa e me lo godrò qualche giorno me lo guardo ogni mattina ogni sera me lo guardo grazie grazie veramente grazie anche se lui gli voleva tutti e due si stava lamentando di quello non ho vinto due giri perché c'è uno solo c'è un altro che c'è uno ha vinto solo un giro era franco e dice ma scusa ho vinto due giri d'Italia perché un trofeo solo no no a dire la verità l'ha detto perché qualcun altro non ha vinto uno solo no io ho ancora un particolare se avete un minuto che ci tengo sì prego noi non c'era però allora c'era per il ciclismo c'era una classifica la petrol che metteva un trofeo che era mezzo chilo d'oro oltretutto alla classifica finale dell'ultimo anno le corse in Italia e io il 62 lo vinsi il 63 c'ero prima io in classifica secondo Adorni a un punto quindi la lotta doveva essere per me fra me e lui no e alla fine io a parte che il giro di Lombardia sono mai andato tanto forte fine anno non è che avevo più tanta voglia comunque niente conclusione quel giro di Lombardia se andate a vedere lo vinse Adriano Durante grande corridore con questo che oltretutto che era qui della zona così la classifica finì primo Durante secondo io un punto da Durante terzo d'oro due punti quindi io ho due figli ne avessi avuto due una c'è uno per uno però adesso ho questo che sostituisce l'altro quindi ne ho uno per uno va bene così va bene allora prima di salutarvi una piccola nota di servizio per i fotografi e colleghi della stampa c'è una sala a disposizione per realizzare le interviste e le fotografie grazie al direttore del giro d'Italia Mauro Vegni grazie davvero infinite a Franco Balmamion vincitore del giro d'Italia del 1962 nel 1963 a Beppe Saronni 1979 1983 al vice direttore della gazzetta Pier Bergonzi e a voi tutti grazie grazie